Il calcio cavallo FC nasce dalla passione per il calcio ma anche da quella per il cacio, il formaggio tipicamente molisano. Infatti FC, la denominazione della squadra, non sta per federazione calcistica o football club ma per forchetta e coltello. L'idea nata da un gruppo di ragazzi molisani che hanno voluto rappresentare appunto la nostra regione a Milano, sede lavorativa o di studio di ragazzi, partecipando poi ad un campionato amatoriale di calcio a sette, Campobasso, Riccia, Cerce Maggiore, Ielsi, Vinchiaturo, Castellino del Biferno, Isernia, Capracotta, Agnone, Montenero, Di Bisaccia. Questi sono solo alcuni dei paesi che si sono uniti per far parte della squadra ma più in generale del movimento. Sì perché il calcio cavallo non è solo un'occasione per ritrovarsi e giocare insieme, i ragazzi hanno creato anche una pagina Facebook seguitissima in tutto lo stivale ma anche nel mondo. Alla base la promozione del territorio molisano con le sue tipicità culinarie, con le usanze e i modi, con i personaggi che caratterizzano la nostra regione. I video del calcio cavallo sono stati condivisi anche dalle pagine sportive più importanti del web come chiamarsi bomber e calciatori ignoranti. Insomma da un'idea si è creato un vero movimento che piace ai giovani che si rivedono nei ragazzi molisani che vivono a Milano. Tante serate come la festa del cacio che si è svolta lo scorso 27 dicembre alle 4 via 9 ed ha riscosso un successo incredibile anche con la diffusione di gadget, t-shirt e sciarpe della squadra. Danilo Sabatino era uno di loro, anzi è e resta uno di loro. Un ragazzo dal cuore d'oro che aveva sposato in pieno gli ideali della squadra diventando nel giro di poco tempo un vero e proprio riferimento per tutti. Ieri i ragazzi sono tornati in campo, vittoria per 6 a 2 con la conseguente vetta solitaria della classifica per i gialloneri doppiette di Fabrizio Guidone e Gabriele Giardino. Marcatura singola invece per Gianluca Mastropaolo e Loris D'Ascenzo. A proposito delle iniziative in ricordo di Danilo vediamo l'intervista realizzata da Gianni Bruno. Allora siamo con Gianluca Mastropaolo, un rappresentante del calcio cavallo, questa formazione di molisani emigrati a Milano che ha subito una grave perdita, quella di Danilo Sabatino, un vostro amico. Ovviamente la perdita è principalmente della famiglia, una scomparsa improvvisa che vi ha gettato nel dolore e nello shock avvenuta il giorno della Befana. Sì, praticamente è stato un dramma perché nessuno di noi si aspettava di vivere momenti, giorni del genere. E quindi questa tragedia ci ha colpito, però adesso stiamo cercando di reagire. Abbiamo espresso grande vicinanza sia alla famiglia, sia ai suoi amici più stretti di Boiano. Stiamo collaborando con loro e proprio per questo volevamo anche dire che è stato creato, è stato instaurato un conto, un codice IBAN che nei prossimi giorni, nelle prossime settimane sarà pubblicato sulla nostra pagina Facebook, che praticamente è un conto dove si possono devolvere delle donazioni a favore dell'adozione di un bambino a distanza, perché Danilo oltre ad avere un cuore d'oro, essere un genio in tutto, in campo, negli studi, al lavoro, aveva questa passione che non tutti conoscono per i bambini in Africa, aveva questa sua passione. E quindi al posto di sprecare denaro, soldi, incorone, fiori, abbiamo deciso di aprire questo conto insieme agli amici di Boiano, i suoi amici storici, dove ognuno potrà effettuare la sua donazione per tenere vivo il ricordo di Danilo nel tempo. E poi abbiamo anche delle altre iniziative, che poi saranno sempre aggiornate sulla nostra pagina, come vorremmo creare una borsa di studio per dei studenti molisani che vorranno studiare a Milano nel suo nome, però per queste iniziative ci saranno aggiornamenti, seguirete la nostra pagina e verrete aggiornati su questo. Ecco, iniziative in memoria di Danilo, da quando sarà attivo questo conto, da quando si potranno fare le donazioni? Il conto è già attivo da ieri e verrà pubblicato nei prossimi giorni sulla pagina, quindi ognuno, chi ci tiene, chi vuole, potrà appunto donare una sua piccola quota, una sua quota in suo ricordo per l'adozione di questi bambini a distanza. Ecco, un'ultima cosa, Gianluca, questa scomparsa improvvisa ha minato la vostra unione, la vostra ovviamente felicità e non credo che le cose poi possano andare come andavano prima, il vostro sponsor è il Molise a Milano, insomma, il Molise ve lo portate con il cuore a Milano e porterete nel cuore anche sempre, come hai scritto spesso tu, Danilo Sabatino. Sì, praticamente questa scomparsa è stata una tragedia, però ci ha rafforzato, siamo ancora più uniti e noi appunto vogliamo che la nostra regione, la nostra terra si conosca al di fuori dei confini regionali e però lo facciamo come gruppo di amici, cioè noi anche i video, i post che pubblichiamo sulla pagina sono post video fatti tra di noi per scherzare, per divertirci, poi le cose sono state eseguite e vanno sempre meglio, però adesso continueremo ancora di più nel suo ricordo e saremo sempre più uniti e cercheremo di farlo conoscere anche nel suo nome, quindi andremo avanti soprattutto e solo per lui.